La nuova stagione di X-Factor Durante la presentazione su Sky della nuova stagione di X-Factor, Achille Lauro ha lanciato una frecciatina ai giudici e ai protagonisti dell'edizione precedente con un chiaro riferimento a Fedez Lauro, che farà parte della giuria del talent show per la prossima stagione ancora trasmessa su Sky per almeno un altro anno affiancherà Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi, con la conduzione di Giorgia Questa squadra sostituirà gli ex giudici dello scorso anno, Morgan, Fedez, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini, che hanno partecipato alla precedente edizione condotta da Francesca Michelin Quando è stato chiesto ad Achille Lauro le differenze sostanziali della nuova edizione? Non ha esitato. Penso che rispetto agli anni passati ci saranno molti meno rompicoglio nasterisco La clip con la sua risposta è diventata virale proprio per la frecciata che Lauro sembra indirizzare ai suoi colleghi Dopo aver collaborato al Tormentone, Mille, feat cantata da Fedez e Achille Lauro insieme a Orietta Berti nell'estate del 2021, il rapporto tra i due artisti sembra essersi raffreddato Questo è evidente anche dal fatto che entrambi hanno smesso da tempo di seguirsi su Instagram I motivi del loro distacco non sono noti. Pubblicamente, infatti, né Fedez né Achille Lauro hanno mai commentato le voci che li vedrebbero distanti dopo la loro fortunata collaborazione musicale di circa tre anni fa Solo lo scorso anno Lauro aveva scelto di essere rappresentato dalla DOOM, l'agenzia di spettacolo, social e musica che rappresenta decine di artisti e che fa capo proprio a Fedez